Buona domenica, ben ritrovati con la nostra informazione. Partiamo con le elezioni regionali. Oggi e domani si vota. Gli elettori sono chiamati a scegliere tra tre candidati alla carica di presidente. Risultati con ogni probabilità nella serata di domani. Lo scrutinio infatti inizierà domani alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi. Gravina e Roberti hanno votato stamattina a Campobasso e Termoli. Izzo voterà invece nel pomeriggio a Diserni. Poco fa sono arrivati anche i primi dati sull'affluenza alle urne. Sentiamo Enzo Luongo. Il Molise sceglie il suo nuovo presidente e i suoi consiglieri regionali. In tutto 21 cariche da eleggere con la tornata elettorale di oggi e domani. Le urne si sono aperte stamattina alle 7 e chiuderanno alle 23 per riaprire poi domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio. Sono 393 le sezioni aperte nei 136 comuni della regione. Gli aventi diritto al voto 327.805. Ma tra questi ci sono 85.000 residenti all'estero. Dei tre candidati alla carica di presidente della regione, il primo a votare intorno alle 11 di stamattina è stato Francesco Roberti che guida la coalizione di centrodestra. Roberti ha votato a Termoli nella sezione 3 della scuola Principe di Piemonte. Un'ora più tardi ha votato invece a Campobasso il candidato del centrosinistra, Roberto Gravina. Il suo seggio è il numero 1 della scuola Dovidio di Piazza della Repubblica. Il terzo candidato alla carica di presidente della regione, Emilio Izzo, sostenuto dalla lista Io non voto i soliti noti, voterà invece nel pomeriggio a Isernia, la sua città. A fine mattinata sono arrivati i primi dati sull'affluenza alle urne. Per ora numeri in calo, ma è estate e molti potrebbero votare stasera o domani. A mezzogiorno in regione ha votato il 9,72% degli aventi diritto. Alla stessa ora alle regionali di cinque anni fa aveva votato il 15,37%, ma allora si votò ad aprile, soprattutto all'epoca. Si votò in un solo giorno, stavolta invece i seggi saranno aperti anche di lunedì. Quanto ai dati dei singoli comuni, quello dove si è votato di più è Pescolanciano con il 15,37%, quello con l'affluenza più bassa invece è San Biase con appena il 3,38%. Nelle città numeri praticamente identici, 11,81% sia a Campobasso che a Termoli, 11,23% a Isernia. E domani Telemolisse seguirà in diretta dalle 15 tutta la fase dello spoglio sino alla composizione del Consiglio regionale a condurre in istudio il direttore Emanuela Petescia, previsti ospiti in istudio, collegamenti con le sedie elettorali, la sala stampa alla GIL, momenti di intrattenimento musicale con il pianista Simone Sala, molte altre novità. E inoltre Telemolisse accoglierà in una sorta di open day chiunque volesse intervenire alla diretta elettorale. Sentiamo i dettagli. Inizierà subito dopo la chiusura dei seggi la diretta elettorale di Telemolisse alle 15 in punto e come di consueto andrà avanti fino alla vittoria del nuovo Presidente della Regione, fino alla composizione del Consiglio regionale, a condurre in studio il direttore Emanuela Petescia insieme a Giovanni Di Tota in compagnia di tanti ospiti che commenteranno via via i risultati dello spoglio. Numerose le dirette in campo da ogni angolo della Regione, Telemolisse schiera infatti come sempre tutte le squadre giornalistiche e tutte le troupe per garantire l'informazione più completa possibile. Sono previsti collegamenti in diretta con la gilla di Campobasso dove è allestita la sala stampa con la sede di Gennaro Niro per la raccolta dati autonoma e quindi più veloce di quella ufficiale con i seggi elettorali e con il quartiere generale dei partiti e dei tre candidati alla carica di Presidente. L'attesa del risultato finale sarà allietata anche da momenti di intrattenimento musicale curato dal pianista Simone Sala ed è in programma anche uno spazio dedicato agli amanti degli animali. Telemolisse proporrà infatti uno speciale viaggio in Molise, questa volta avarcando la soglia del canile di Santo Stefano per trasmettere i video dei nostri amici a quattro zampe e sollecitare la loro adozione. Ne mancheranno gli scherzi a danno, si fa per dire, di candidati a esponenti politici di spicco della campagna elettorale e tante altre sorprese e novità che i telespettatori scopriranno durante la lunga diretta elettorale di Telemolisse. La nostra emittente infine accoglierà tutti i cittadini che vorranno intervenire alla trasmissione con contributi, domande e curiosità, una sorta di open day negli studi televisivi di Campobasso. E adesso invece vediamo come si vota nella nostra scheda tutto quello che c'è da sapere prima di recarsi alle urne. Sentiamo. Eccola la scheda elettorale di queste elezioni regionali con i tre candidati alla carica di presidente e le quattordici liste in campo. Vediamo come si vota. Per la carica di consigliere l'elettore può esprimere nelle righe della scheda uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze queste devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, una donna e un uomo pena l'annullamento della seconda preferenza. Ciascun elettore può a scelta votare con modalità diverse. La prima ipotesi. Si può votare solo per un candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista singola oppure a favore della coalizione di liste collegate al candidato presidente. Seconda ipotesi. Si può votare per un candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo o simbolo e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno su una delle liste. Terza ipotesi. Si può votare a favore solo di una lista. In tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente ad essa collegato. Altre regole importanti. Il voto espresso, mediante preferenza a uno o due candidati nella lista, senza tracciare poi alcun segno sul simbolo della stessa lista di appartenenza, si intende espresso anche a favore del partito, oltre che in favore del candidato presidente collegato. Se si vota per più liste collegate allo stesso candidato governatore, il voto è attribuito solo a quest'ultimo. Non è ammesso il voto disgiunto. Il voto espresso per un candidato presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Cambiamo argomento. Sono stati raccolti circa 26 tonnellate di rifiuti grazie al progetto finanziato dall'Unione Europea Termo Lissi Cleaners, un'iniziativa promossa dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise che ha come obiettivo quello di ripulire i fondali per tutelare la biodiversità. Francesca Danversa. Reti, funi, legno, plastica, vetro e ferro per un totale di circa 26 tonnellate. È la quantità di rifiuti che sono stati recuperati nell'arco di cinque mesi da gennaio a maggio di quest'anno nei fondali del mare termolese grazie al progetto Termo Lissi Cleaners. Finanziata dall'Unione Europea e promossa dall'Istituto Zooprofilattico del Molise e Abruzzo, l'iniziativa ha l'obiettivo di monitorare la presenza di contaminati ambientali e salvaguardare la biodiversità. Queste sono solo alcune tra le nostre tante diversificate attività che portiamo avanti per tutelare la salute dell'uomo, degli animali dell'ambiente del mare e delle risorse ittiche, ha sottolineato Nicola D'Alterio, direttore dell'Istituto Zooprofilattico. Protagonisti del progetto, i pescatori della marineria termolese nel ruolo di spazzini del mare, che hanno partecipato alla raccolta durante le loro normali attività di pesca e nel corso di uscite mirate. Il pescato rinvenuto e non sottoposto ad analisi biometriche, quindi non necessario ai fini scientifici e che non può essere venduto, si tratta di circa 310 kg di pesce, è stato donato alla Caritas Ritermoli, alla Onlus Ictus, alla Comunità Pedagogico-Reabilitativa per il Recupero delle Dipendenze Fatologiche Il Noce e ai Frati Francescani, una scelta di cui siamo orgogliosi perché ha un importante risvolto sociale e va anche nella direzione della riduzione dello spreco alimentare, ha commentato D'Alterio. L'Università del Molise e l'Accademia dei Giorgofili e l'Associazione Italiana Allevatori hanno firmato a Roma, al Palazzo del Quirinale, il protocollo d'intesa finalizzato all'istituzione della giornata nazionale della transumanza. È il risultato di anni di studi e ricerche culminate ad ottobre scorso con il convegno Ripensare la transumanza che si è tenuto nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Con questo accordo, ha detto il Rettore dell'Unimol, Luca Brunese, si conferma l'impegno e la posizione di rilievo del nostro Ateneo nel panorama nazionale e internazionale su un tema importante che è oggetto di ricerche e di attività di sviluppo interdisciplinare da parte di numerosi colleghi. Il consigliere comunale di minoranza Cesare Pietrangelo è tornato sulla gestione del parco dell'acqua sulfurea a Disernia. I cancelli restano chiusi e le erbacce continuano a crescere. Ha detto, non l'è stato fatto dopo la mia interrogazione al sindaco Enrico De Simone. Continua a tenere banco a Isernia la polemica sulle condizioni del parco dell'acqua sulfurea. La questione era prodata in consiglio comunale grazie a un'interrogazione presentata dall'ex vicesindaco Cesare Pietrangelo ed è di nuovo Pietrangelo a intervenire sui social. Dopo i tanti solleciti tutto tace, scrive, il parco resta chiuso mentre le erbacce crescono. Non è cambiato nulla e questo lo dico a mio a malincuore per me e per tutti i cittadini di Isernia e per tutti coloro che avrebbero potuto già fruire di questo spettacolare parco dell'acqua sulfurea. Dico spettacolare perché? Perché noi a fine mandato consegniamo alla giunta che poi si è insediata successivamente il parco dell'acqua sulfurea, il primo lotto funzionale completamente ristrutturato, fruibile. Questo poi non è stato fatto più nulla e questa è la mia rabbia, mi sconvolge questa cosa. Adesso si può vedere all'interno del parco ci sono erbacce che crescono dappertutto. Era tutto perfettamente fruibile. Il sindaco deve venire sul posto e confrontarsi con me, sul posto e con gli atti alla mano. Sono pronto a tutto. Io sono veramente mortificato per questa situazione perché adesso soltanto il potere reiniziare a entrare in questo parco ci vorranno almeno altri 50-60 mila euro, considerando che in due anni questo cancello non è stato proprio aperto da chi invece avrebbe dovuto aprirlo e consegnarlo alla città. In Consiglio Comunale rispondendo a Pietrangelo Castrataro aveva parlato di rallentamenti dovuti sia a problemi con gli impianti del parco sia alla necessità di mettere in sicurezza un tetto la replica di Pietrangelo. Il sindaco parla di una struttura il cui tetto sta cadendo ma parliamo di una struttura che sta 50 metri più a valle completamente divisa dal primo lotto funzionale quindi chi fruisce del primo lotto funzionale non può andare verso questa zona che deve essere ancora assolutamente messa in sicurezza. È più a valle, nulla a che vedere con il primo lotto funzionale. Ho detto al sindaco se non conosci bene la situazione ti accompagno sul posto unitamente a tecnici e sono pronto a farlo. Adesso andiamo a Guglionesi una cena di solidarietà in nome della condivisione la casa famiglia Ictus Lucia e Bernardo Bertolino l'iniziativa è stata chiamata abbiamo sbagliato ma non siamo sbagliati hanno partecipato oltre 300 ospiti ce ne parla Dalila Catenaro una serata incantevole baciata da un venticello ameno e fresco che ha accompagnato la cena di solidarietà che si è tenuta ieri sera presso la casa famiglia Ictus Lucia e Bernardo Bertolino ed è stata organizzata da Don Benito Giorgetta parroco della chiesa di Santimotio insieme all'associazione Giovanni XXIII un momento di convivialità che è stato apprezzato dai tanti commensali presenti non soltanto i parrocchiani ma anche tanti termolesi e amici dell'associazione che hanno cenato sotto un cielo stellato stupendo la prossimità è la cosa più bella relazionalmente parlando e la presenza di tante persone ad un invito che è arrivato da persone che hanno vissuto la dimensione e la reclusione è qualcosa di molto bello importante e incoraggiante per loro il titolo di questa serata è abbiamo sbagliato ma non siamo sbagliati ecco scoprire i lati buoni i lati positivi anche di coloro che hanno sbagliato è una cosa bella perché si esplorano mondi sconosciuti e si scoprono ricchezze che altrimenti sarebbero rimaste seppellite nel cuore e nella vita di queste persone è veramente incoraggiante vedere tante persone che hanno preso sul serio il nostro invito e si sono resi presenti l'importanza della prossimità così come ha ribadito Don Benito il titolo di questa serata è stato abbiamo sbagliato ma non siamo sbagliati scoprire quindi il lato positivo di coloro che dopo aver toccato il fondo della loro esistenza sono riusciti a sollevarsi proprio come la Fenice che rinasce dalle sue ceneri hanno pagato e riconoscono il proprio errore chi di noi è capace di riconoscere in pubblico il proprio errore perché non c'è nessuno di noi che sbaglia l'importante dice Papa Francesco non rimanere sbagliati sapersi rialzare saper ricominciare saper ridare una dimensione di speranza alla vita quando religiosamente parlando Dio perdona non cancella solo il passato ma dà un colpo di spugna sul passato e un colpo di remi per il futuro perché c'è sempre un oltre che ci aspetta e non lo dobbiamo mai dimenticare più di 300 persone hanno partecipato alla cena della casa famiglia i pasti sono stati preparati artigianalmente proprio dagli ospiti della struttura insieme agli amici della comunità di Vasto persone che hanno sbagliato ma che non sono sbagliate persone che stanno acquisendo hanno acquisito consapevolezza dei propri errori e quindi si mettono in condizioni di riaffacciarsi alla vita di riabbracciare la vita questo è il messaggio e vogliamo mandare anche al popolo alla popolazione che si può cadere ma anche rialzarsi e credo che sia importante da parte della società di ognuno di noi di tendere la mano per farti dare su le persone piuttosto che lasciarle schiacciate a terra E sempre in tema di solidarietà c'è anche quella dei volontari del Molise verso l'Emilia Romagna in particolare verso le tante persone rimaste senza casa a causa dell'alluvione l'associazione di promozione sociale saperi e sapori in collaborazione con la protezione civile con gli amici della Fisarmonica ha organizzato Romagna Mia serata in favore delle popolazioni alluvionate che coniugherà socialità e beneficenza sabato primo luglio a Mafalda in piazza della Libertà dalle 21 i volontari distribuiranno un piatto di tagliatelle condite con tipico ragù romagnolo e un bicchiere di lambrusco la serata sarà lietata dalla performance di sette musicisti che si esibiranno con organetti e fisarmoniche le offerte verranno devolute ai cittadini sfollati a causa dell'alluvione Airbnb e Polizia Postale insieme per mettere in guardia i vacanzieri sulle truffe in cui potrebbero incappare prenotando da soli online una serie di buoni consigli e di dritte affidate ad un testimonial d'eccezione Marco Camisani Calzolari esperto di comunicazione digitale sentiamo c'è chi le vacanze le programma mesi e mesi prima e c'è chi preferisce last minute sperando di poter risparmiare qualcosa o perché ha avuto problemi organizzativi molti per stare tranquilli si affidano ad agenzie specializzate in viaggi molti altri preferiscono il fai-da-te e si servono del portale più conosciuto per prenotare una casa vacanze ossia Airbnb ed è proprio a questi ultimi che ha pensato la Polizia Postale visto l'aumento di truffe in cui questo tipo di vacanzieri incappano sempre più di frequente in collaborazione proprio con il portale online ha stilato una lista di consigli e di dritte a cui far caso se si sceglie questo servizio per la prenotazione per evitare raggiri come testimonial dell'iniziativa di Polizia Postale e Airbnb è stato scelto Marco Camisani Calzolari esaminiamo sempre i dati dell'annuncio le foto utilizzate e tutte le informazioni di contatto che sono presenti dentro l'annuncio anche le foto delle case dobbiamo cercarle sui comuni motori di ricerca per scoprire se sono falsi e poi verifichiamo l'autenticità dell'annuncio verificando l'URL quello che appare nella barra dell'indirizzo controlliamo la validità delle proposte verificando i feedback lasciati da altri utenti e diffidiamo da offerte lontane dai prezzi di mercato e come pagamento utilizziamo solamente il metodo proposto nella piattaforma ufficiale non accettiamo bonifici carte prepagate non paghiamo in quel modo e sempre occhi aperti perché i truffatori sono dappertutto qualche altro buon consiglio e poi diffidare da chi propone affitti su siti di altro genere e poi rinvia al sito di Airbnb potrebbe essere fasullo non cliccare sul link spediti con email ma digitare personalmente gli indirizzi nella barra del browser far caso all'icona con il lucchetto quando si paga non accettare di inviare una caparra è contrario alla politica di Airbnb quando si arriva a destinazione viene proposto un alloggio diverso documentare il tutto e contattare la piattaforma per avere un rimborso e ora andiamo a Disernia dove si è celebrata la giornata internazionale del merletto nel centro storico esposizione delle creazioni realizzate dall'associazione delle merlettaie vediamo anche le merlettaie di Sernia hanno partecipato alla giornata nazionale del merletto giornata istituita per promuovere le creazioni a tombolo realizzate con precisione e pazienza dalle prime ore del mattino nel centro storico una schiera di merlettaie al lavoro per noi è il terzo anno che partecipiamo a questo evento internazionale l'International L'S Day è un momento di raduno per tutti i merlettaie e merlettaie del mondo è praticamente una piattaforma che racchiude tutte le foto di tutti i merlettaie e le merlettaie che amano partecipare a questo evento annuale nel gruppo delle merlettaie e anche chi è alle prime armi con i fuselli la piccola Rosa è la sua passione stai seguendo anche il corso come sta andando? bene bene ho appena finito una striscia che è un braccialetto ma da dove nasce questa passione? mi piace muovere le mani e appena ho visto il tombolo ho fatto l'iscrizione e ho iniziato a farlo da mercoledì 28 giugno sarà possibile smaltire tutte le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche nel presidio allestito all'ex edicola di piazza in sorti d'Ungheria a Campobasso una comodità resa possibile grazie all'accordo tra la servizio ambiente SPA Campobasso SEA e il consorzio di recupero Aerion in questo modo sarà possibile il recupero delle preziose materie prime che compongono tablet, telefoni, tv, monitor sottili smartphone, sveglie eccetera la postazione sarà aperta da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 dalle 14 alle 30 alle 17 chiusa giovedì mattina e sabato pomeriggio 5 dipinti è il titolo della mostra allestita dall'Associazione Culturale Il Campo curata dall'artista Renato Marini per omaggiare il maestro Achille Pace in occasione del centenario della sua nascita sarà possibile visitare le opere inedite di Pace presso gli spazi della caffetteria 10.5 a Termoli fino al 16 luglio Francesca Danversa Fili di cotone applicati su tela dove essenzialità ed emotività si abbracciano la raffinatezza è il tratto distintivo dell'arte del maestro Achille Pace in occasione del centenario della sua nascita il centro culturale Il Campo e l'artista Renato Marini hanno deciso di omaggiarlo esponendo alcune delle sue opere nello spazio 10.5 a Termoli Achille Pace nasce come pittore di paesaggio in seguito approfondisce l'arte dell'espressionismo e soprattutto le opere e gli scritti di Paul Klee è l'influenza dell'action painting americana che lo porterà poi ad inserire altri materiali nelle sue opere come il filo ed elementi tessili Achille Pace è stato uno dei protagonisti del panorama internazionale dell'arte contemporanea a lui si deve la creazione del premio Termoli istituito nel 1955 alla Galleria Civica dando così la possibilità alla città adriatica di essere inserita nel circuito dell'arte con nomi illustri come Fontana e Burri Renato Marini ha inserito l'esposizione delle opere del maestro in un programma che prevede la presenza di un artista diverso ogni mese fino al 2024 Sarà un continuo di mostre per sempre sono commosso nel vedere queste opere di Achille perché certo che meritava di più la città di Termoli io nel mio piccolo ho voluto omaggiare in questo modo con poche opere ma l'ho fatto con tutto il cuore l'ho fatto per la grande stima e amicisa che ci lega da sempre ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti nel 1980 presentavo una mia personale presso la galleria di Omede di Termoli in corse nazionali diretta da Antonio Garuso e quindi Achille mi ha onorato dalla sua presenza venendo a visitare la mia mostra insieme alla sua compagna di viaggio Maria La moglie di Achille Pace, Maria in occasione dell'inaugurazione della mostra ha scritto una lettera a Marini per ringraziarlo e per complimentarsi Ci auguriamo tutti, scrive che la tua operazione abbia il meritato riconoscimento e produca gli effetti sperati per te, per Achille e per la nostra società E in chiusura l'appello per un cane un cane che si chiama Lara, 11 anni, meticcio, simil setter a pelo corto, nera, sfocata con una macchia bianca sul petto si è allontanata ieri intorno alle 16 da Contrada Colle Arso a Campobasso, è molto spaventata e sicuramente si sarà nascosta ieri nel pomeriggio non aveva collare ma è provvista di microchip chi l'ha trovata o in grado di fornire informazioni può chiamare la nostra redazione questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi una buona domenica grazie per averci seguito